Non fu facile convincere il sinodo della Chiesa Ortodossa Romena, ma anche qui l'amicizia d'Inse. La Chiesa Ortodossa Romena si fidò del fatto che noi organizzassimo tutto. Io penso che la fiducia, che questo sia anche comunismo. Il Patriarca Ortodosso Deoctist per la prima volta visitò la Chiesa Cattolica. Fu come davvero il crollo di un altro muro. Il Sant'Egidio ha aiutato alla preparazione di questo pregnazio, di questa visita di Giovanni Paolo II a Bucarest, un incontro anche indimenticabile. Tre, quattrocentamila persone, le quali alla fine, mentre il Papa si abbracciava con il Patriarca, un grido che durò cinque minuti. Unitate, unitate. Si è visto che il popolo ha desiderio questa unità nella Chiesa. La comunità di Sant'Egidio ha imparato a usare gli strumenti della politica come ha imparato a usare quelli della diplomazia. Quando l'obiettivo è quello, per esempio, della pace da raggiungere o da conservare, certamente bisogna usare i termini della politica e soprattutto bisogna incontrare gli uomini politici. Quella è stata una visita e richiesta dagli americani. Perché dire di no? Abbiamo parlato dei temi dell'AIDS, abbiamo parlato dei temi della pace. Qualcuno ha detto, sì, ma che fa? Va da Prodi e va dal Papa e va anche a Sant'Egidio e lo mette sullo stesso piano. Poi siamo ripiombati nell'anonimato. Che chi è capo della politica mondiale di un paese che è il primo ancora oggi nelle fatiche varie, abbia una visita ufficiale come c'era col capo dello Stato italiano, con la comunità di Sant'Egidio non è una cosa piccola, insomma, no? Quindi anche chi la vede magari con un po' di volto storto deve accettare la realtà. Io non lo so se noi facciamo politica. Io da buon ex sessantottino sono convinto che tutto è politica. Mi sembra che noi lavoriamo su due cose che sono politica. Una è la pace. L'altro è il discorso di una cultura della vita che è politica. E la cultura della vita è il dialogo. La pace in Mozambico nasce dall'incontro umano con un prete mozambicano che veniva in Italia, si conosce, poi attraverso di lui conosciamo il Mozambico, poi scopriamo che c'è la guerra civile. E quindi ci mettiamo a cercare le strade per far dialogare la guerriglia e il governo, perché i vari governi non ci riuscivano più. E così pian piano noi creiamo e costruiamo la pace in Mozambico. 26 mesi di negoziato di pace a Sant'Egidio inventiamo il linguaggio del negoziato di pace. Cercavamo di utilizzare la debolezza della comunità, che non era certamente una grande organizzazione, una istituzione che si affermava di per sé, ma che faceva proprio di questa debolezza l'occasione di mettere insieme i fratelli nemici. E' una grandissima esperienza umana, si vede come il guerrigliero si trasforma in un uomo politico. Sant'Egidio comincia a diventare un crocevia, l'ONU di Trastevere, secondo Igor Mann. Gli americani venivano e dicono, bisogna far presto, in due mesi, ogni giorno muoiono bambini. Però c'è il tempo, c'è il tempo che è una grande scuola. Oggi siamo al termine di questo lavoro e sento che si compie per il Mozambico qualcosa di importante e di decisivo. La nostra gratitudine, allora, è a voi che avete saputo interpretare l'aspirazione di pace del Mozambico. L'idea era che fosse possibile tessere questi fili nell'amicizia, cioè lavorare con lo stile di Sant'Egidio, questo mix di amicizia e diplomazia. Poi dall'altra c'è stato un incontro col presidente mozambicano, Samora Machel e il Papa. Questo è anche una cosa interessante, perché Samora Machel non voleva venire al Papa, perché diceva io non mi metterò mai in ginocchio davanti al Papa, perché abbiamo detto se lo mette in ginocchio. Il giudizio del Papa era molto interessante, perché io pensavo che questo leader marxista, beh, insomma, il Papa, e lui disse non è un marxista, è un nazionalista. E poi aggiunse io di comunisti mi intendo. Un rivoluzionario nero è il Papa di Roma, una stretta di mano che diventa un simbolo. Dopo due anni di trattative mediate dalla comunità di Sant'Egidio, la pace in Monzambico viene firmata. È la fine di una spaventosa guerra civile costata un milione di morti. Un miracolo voluto con la forza della fede e la caparbietà dell'amore dall'Italia all'Africa. Molto difficile e molto più famosa, perché l'Algeria, non siamo arrivati a niente, ma abbiamo posto il problema. E fu un impatto mediatico fortissimo, soprattutto perché da qui venne fuori una piattaforma di Roma, dove si affermava l'esigenza di una transizione alla democrazia. Qui avvenne una risposta molto forte, vorrei dire durissima, da parte degli algerini, che fecero pressioni su di noi, e questa è la prima volta che è accaduto, attraverso il governo italiano e attraverso il Vaticano. Si aveva a che fare con un estremismo fondamentalista al quale era assai difficile mettere un lazzo al collo per imbrigliarlo. Il tentativo fallì e lì cominciarono le critiche. Ci fu anche la voce che noi eravamo gli emissari degli Stati Uniti, che volevano sottrarre l'Algeria alla Francia. In realtà noi fummo piuttosto appoggiati dai francesi, ma dietro non c'era nessuno. Infatti cosa c'è dietro Sant'Egidio? Dietro Sant'Egidio c'è Gianicolo, non c'è altro. Ci sono persone con le quali un diplomatico non può parlare, non può parlare, se non altro perché non si può risapere che ci ha parlato. Un'organizzazione del volontariato può parlare con chiunque abbia un viso, una voce, un cervello. Quello che è mancato è stato anche un po' l'idea che questa crisi dovesse essere internazionalizzata, anche se erano stati gli stessi algerini a firmare il contratto. Però questa internazionalizzazione ha messo paura a qualcuno, ai poteri forti, diciamo così, in particolare ai militari. È vero che all'interno del Vaticano a volte qualcuno ha visto in loro una sorta di concorrenza alla diplomazia, ma non è mai stato così. C'è un mito, no? Sant'Egidio è il braccio secolare del Vaticano, quello che il Vaticano non riesce a fare in politica internazionale lo fa Sant'Egidio. Beh, io qui dico no. Ma non no perché non lo faremmo, ma perché non ce l'hanno mai chiesto. Giovanni Paolo II diceva voi siete la terza sezione della Secretaria di Stato, ma non credo che la Secretaria di Stato firmasse. La comunità di Sant'Egidio è una comunità di gente responsabile che si assume le proprie responsabilità. E in questo senso noi non siamo il Vaticano. Il Vaticano lo sa, noi lo sappiamo, ed è questa la ricchezza della Chiesa. Se la comunità di Sant'Egidio non è il braccio secolare del Vaticano, certamente è una straordinaria macchina di pace. Nel Kosovo un nuovo miracolo, l'accordo tra il servo Milosevic e l'albanese Rugova. E neppure la guerra che di lì a poco è in San Giove.